però la parte quella mia la capito eh dai ma fate affari il gossip che tutti vogliono sapere tu credi che lui sia ancora vivo e sia su un'isola insieme a Elvis Presley ma io sono uno che sui complotti e cose varie sei complottista? no però mi diverto tantissimo ti dico già per dire a scuola nel periodo 2012 ho terrorizzato tutti la roba di Maya finisce il mondo però mi faceva ridere tutti pensavano che io c'erassi davvero perché ti faceva ancora più ridere sì perché a me piace vedere la lezione della gente quindi questa roba di Marco Jackson oppure altre mille io sto lì capito l'11 settembre ho fatto gli alieni i piramidi hanno fatto gli alieni metto lì capito a incastrare la gente lo penso no me te immagino io penso che ci creda veramente e quindi è proprio marina questa cosa io mi immagino James da Cruz che da Passo Scuro viene a Roma per una delle sue solite nottate al Toy Room in cui è resident DJ e che cosa starà pensando a queste stronzate questo è fantastico se la vita ti affanna dillo a zianna mh tortellini con la panna dillo a zianna salti ma che ha la mamma dillo a zianna rino gaetano e la sua gianna dillo a zianna dillo a zianna dillo a zianna sono io siamo negli studi di Radio Chaos Italy via Eugenio Torelli violier 17 la via più facile di Roma da pronunciare ma è giusto che sia così oggi come ospite un uomo della notte un uomo che ha fatto della console il suo palcoscenico principale suonato in tutta Italia torna in questi studi un grande amico James da Cruz bentornato grazie Riccardo veramente bentornato grazie di invito grazie Ricky perché qua noi abbiamo condiviso bei momenti vero abbiamo condiviso bei momenti tanti anni fa non ricordo quando beh era 2017 penso ok ho inquadrato il periodo storico un bel po' di anni fa perché noi ci conosciamo da il tuo tempo sì è vero da tantissimo tempo e abbiamo condiviso anche tanta aria di mare perché tu sei un uomo di mare questa è la verità sei un uomo di mare sia per le tue origini proprio da albero genealogico esatto sia invece da esatto abitando a Passo Scuro mio nonno uno dei principali pescatori di Passo Scuro sì è stato uno dei primi proprio cittadini diciamo così ok e quindi poi sì anche se ahimè non l'ho vissuto tantissimo insieme a lui ok perché purtroppo per vicissitudini però sì sì comunque in tutta la zona molto conosciuto Gerardo che salutiamo assolutamente che ci guarderà anche dalla su non ho dubbi Jay tuo percorso artistico lungo costellato di bei momenti sì assolutamente via anche di difficoltà ovviamente come tutti come tutti dai come chi condivide il nostro tipo di lavoro il nostro tipo di vita l'arte è fatta di questo eh sì di difficoltà difficoltà e sì e di momenti belli momenti belli ci sono periodi non lo so che magari un momento molto bello arriva da un momento bruttissimo ok ah certo come conseguenza sì al solito sali e scendi no quindi però bisogna sempre capire in che momento sei nel senso io sono uno che con gli anni prima no magari quando ero più piccolino no però negli anni ho detto cavolo sto facendo questa roba goditela ok presente vivilo eh perché tendevi sempre a andare tendevo sempre vediamo che c'è dopo vediamo che c'è dopo sì però magari sai dici ok sto a fare sta cosa figa magari ho fatto un mazzo così per farlo però dico vabbè però sto facendo come se tutto fosse eterno però non è così no non è così come nulla nella vita è così cioè speriamo che le cose belle durino tanto esatto nel senso per dire non lo so stiamo facendo un evento figo ti dico l'arena di Verona o San Siro capito sto lì oh sto qua ora respiro cioè io ormai mi sono fatto questa cosa mentale che devo realizzare che devo focalizzare in quel momento dove sto perché respiro faccio dei respiri e vivo quel momento presente così che è come diciamo mettessi un tassello in quel momento così se magari tra un anno sei mesi due anni quattro anni dico oh quel periodo il cervello mio lo ricorda in maniera più vivida capito un po' più non come la cosa oddio l'ho fatta però non mi ricordo è come il discorso che facciamo prima delle foto no che ormai abbiamo solo foto molto molto digitali ormai sono foto digitali cioè nel senso io faccio backup diciamo un po' stagionale diciamo perché cioè ormai la mia vita è come diciamo con la scolastica quindi ottobre maggio è un capitolo da maggio a settembre è un altro e quindi riempio il telefono in maniera smisurata e dico cavolo devo fare il backup all'iPhone ok le metto lì le metto lì le metto lì e non le vedo mai è lì il resto è vero e lì il resto e in tutti di tutti questi momenti diciamo di tutte queste fotografie ce n'è una che metteresti un po' tra virgolette al primo posto dei bei ricordi lavorativi o di vita diamo lavorativi perché di vita è complicato è complicato magari anche troppo personale però diciamo lavorativi un momento di grande luce un momento di grande ombra spesso li definisco così uno solo è complicato lo so è molto complicato però dovendo sceglierne uno al volo forse così quello è il sarei scontato a dirti San Siro perché non è scontato dove sei stato perché hai suonato sì lavorando con la Darpolo Gang abbiamo aperto il concerto di Axe Fedez è stato un evento pazzesco perché ovviamente San Siro cioè poi io amando il calcio cioè poi io mi ci sono ritrovato a fare musica non era il piano A e qual è? cioè non è mai stato un piano in realtà cioè il piano A per me era è stata una console abbiamo già l'interno banalmente era fare calciatore dai vedessi quando ero piccolo che giochi ancora tra l'altro giochicchio che intanto non c'ho più i polmoni poi capirei mamma è brasiliana papà che ha giocato a calcio capito sai io a piccolo voglio diventare calciatore voglio fare i soldi perché si stava tutta la famiglia cioè la mia testa era quella io quei soldi sistemavo tutti dal Brasile quelli qua chiunque beh che poi con i soldi del calcio se arrivi ad altri livelli li sistemi veramente tu ma sì soprattutto poi comunque se fai il cambio pure di moneta rispetto a qui è il real brasiliano cioè comunque cosa si chiama la moneta brasiliana? real quindi potevi giocare nel real fare un sacco di real e quindi quindi questo però ecco non ti direi quello però direi ha stato d'animo per come l'ho vissuta in quel periodo il DJ set all'Orion 20 maggio 2016 che è proprio stato qualcosa DJ set tuo era un DJ set di apertura a un concerto di un artista mi ricordo perché poi ci siamo visti esatto quel backstage è stato cioè perché per una serie di cose mi sono ritrovato lì all'Orion di Ciampino dove lì facevano il Diabolica sì comunque è il locale cult cioè credo che per il mondo dei DJ della musica della notte esatto per me che comunque mi sono avvicinato alla musica quella di notte diciamo grazie a Diabolica quindi con Emics di Lewis Emanuele inglese certo poi con tutte le altre collaborazioni che fecero poi quando mi dico ci raggiunsero altri e quindi per me stare lì fare un DJ set di quel tipo che poi suonavo la roba che la suonava non ti ricordi e lì c'era Emics davvero quella sera non ti ricordi del backstage eh no eh no perché non è mio c'era lui c'era il buon gemello e poi ci arriviamo per me lui artisticamente è qualcosa Andrea sì io me lo sentivo a 14 anni in cuffia sullo scarabbeo mentre andavo a scuola c'hai capito che stavo lì tutto strappato sai dalle lacrime no quando sei piccolo c'è il momento depressa dell'essenziale certo che me lo ricordo ho capito ho capito ho capito tutti ce l'abbiamo avuto quindi sì quello poi era un periodo mio personale lavorativo stupendo però personale più difficile personale sì difficile comunque non so se l'hai notato che spesso arrivano dei momenti belli lavorativi coincidono con dei momenti brutti personali per me è sempre stato così ogni volta che una ragazza mi ha lasciato è un grande record 11 su 13 però o di lì a poco o praticamente nello stesso periodo mi succedeva qualcosa io sì se potrebbe fare una cosa a metà no ormai sì ho capito questo modus soprandi della vita vero che comunque ti non lo so ti fa vivere determinate cose di modo che ti fai la corazza per poi viverne altre ok certo capito è chiaro come dicevo prima il periodo buio ti prepara poi al momento ovviamente il periodo buio te lo ricordi te lo ricordi più vividamente perché perché dai perché ti segnano di più perché la felicità in sé per sé non è un momento è quel secondo quei due tre secondi è un calcio di rigore esatto cioè la distanza del pallone che va dentro per questo ti dico quando sto in quel momento dico facci caso capito citazione non banale dico facci caso a quel momento che stai vivendo poi va perché uno nessuno te l'ha regalato non sai se torna non già capito facci caso adesso ci stai lo stai vivendo ora domani ci pensi domani e ieri non ci puoi più pensare non esiste ieri non ci puoi più niente e quindi quindi questo magari nei tuoi svariati momenti di quei momenti ci sarà anche la tua Salvador ti ho detto Salvador de Bahia giusta come sapete insomma ai miei ospiti chiedo dieci oggetti chiave dieci elementi chiave della loro vita loro ne scelgono cinque e poi dalla parte un po' la nostra chiacchierata cosa ti porti di Salvador in console perché tu dal vivo sei cioè tipo tipo Ronaldo però no cristiano il fenomeno cioè tu dai no perché al di là che siamo amici te l'ho sempre detto cioè quell'energia hai sempre il sorriso quindi c'è sempre questo sorriso quando suoni oltre poi al fomento perché te fomenti delle tracce che scegli e che metti tutto quello che prepari ok però c'è si vede proprio che lì sei nel tuo io penso Ronaldo proprio lui quando giocava era proprio contento di giocare Ronaldinho anche certo Ronaldo lo esprimeva stavo parlando di due infatti Ronaldo c'era quella freddezza sotto la porta perché poi si è fatto pure male sì quindi c'era questo background un po' più diciamo pesante faticoso diciamo e Salvatore lo porti in console la porti in console la porto la porto molto tant'è che adesso non so quando dovrebbe uscire un mio remix di una canzone brasiliana veramente sì lo porto perché è famiglia Salvatore è famiglia lì avendo metà della famiglia dall'altra parte del mondo perché tutta la famiglia e tua madre sì mia mamma sta qui ormai praticamente mia mamma è resident ha vissuto più in Italia che in Brasile perché lei è arrivata qui mia mamma ballerina coreografa donna dello spettacolo donna dello spettacolo tutto tondo è arrivata qui aveva 24 anni grazie nell'84 l'86 non mi ricordo ok siamo nel 2024 ha fatto più anni qui sì 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 certo e quindi per me lì è famiglia poi una delle mie più più grandi fortune che ho avuto se non la totale è proprio la famiglia mia mio papà mia mamma in primis beh devo dire poi ho avuto modo di conoscerli è vero più volte tra l'altro è vero sbagliati eventi sì sbagliati eventi anche a passo scuro non solo perché poi insomma anche in altre situazioni e quindi questo tipo di calore familiare questa vicinanza ti hanno aiutato in quella che fuori e indico fuori dalla vetrina perché ne stavo parlando qua hai definito come gavetta molto lunga però sempre in serie A che ha una pressione anche quello credo sì cioè è pressante dover iniziare già a un certo livello perché tu hai iniziato trovandoli già perché magari io che capirai sono della vergine sono un rompisc posso rire sono un rompicazzo da infiniti ma in primis con me stesso ma perché tu credi all'oroscopo no però comunque ci sono tante cose che è la verità che ti ci ritrovi è vero è vero cioè nel senso io sono bilancio è innegabile è innegabile a prescindere se uno ci crede o no e quindi io sai i primi periodi dico cavolo sono appena arrivato sto a fare questa roba qui dico cioè la devo fare in una determinata maniera perché sennò poi quello pensa che non c'è capito quindi magari sì la cosa dei miei genitori che comunque ti ripeto mamma spettacolo papà spettacolare calciatore cose varie quindi anche loro credendo ai sommi e quant'altro mi hanno sempre spinto mi hanno sempre in un periodo buio per me che poi prima che arrivasse il mio primo tour in giro per l'Italia accompagnando artisti e quant'altro perché io frate ho iniziato davvero che andavo ancora a scuola che figo ho fatto tutti i diciottesimi di tutti quelli che andavano cioè tutto il litorale naziale ma sì io mi ricordo mi accolavo le casse gli stativi e le luci quella sua macchina che stava impennata e andavo a fare i diciottesimi quindi perché al toy room non porti tutto tu no a parte che parliamo del toy room che è un altro livello parliamo l'avvio chiaro a San Siro non hai portato a San Siro non hai portato le cose tu no e quindi come hai fatto a perdere il filo e no però hai iniziato facendo tutto questo i tuoi sognatori però ti hai sempre spinto oh magari sai che c'è va a trovare una cosa sicura ma hanno sempre io perché magari pensando dico sai che c'è ma sai che qua devo finire devo finire di fare sta cosa perché voglio che ne so ho stipendio fisso cioè così la certezza così me l'avevo usato il pensiero mi padre non c'è andato infatti ho un colloquio magari mi prendono donna ostia a lavorare non mi ricordo manco dove manco cosa mi padre non c'è vai veramente mio padre e lì frate boh sliding door sì 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 perché mi padre mi disse se tu ti chiudi là dentro poi muori in senso figurato occasioni per fare questa cosa qui non ce l'hai perché stai là dentro chiaro è santo papà assolutamente capito mentre magari posso conoscere qualche altro amico che molto bravi ok però magari il genitore che ti dice eh no però magari che stai a fa capito queste circostanze poi ti portano a scegliere a fare io sono stato diciamo fortunato in questo in quel periodo lì beh l'appoggio può diventare secondo te anche pressione cioè il fatto perché c'è due tipi di pressione sia quella che per l'aspettativa dici no forse forse anche perché c'è quella fiducia ogni tanto la fiducia può mettere pressione non lo so ma ne sto ragionando non è totalmente in buona però tante cose in buona se so fatte male ovviamente scaturiscono fanno scaturire qualcosa di cioè non so se tu hai avvertito anche un po' quella pressione perché dici capo li credono così tanto esatto ma in realtà non è che mi è mai arrivata questa cosa tipo oh devi arrivare per forza ma anche perché io comunque certo io a volte in determinati periodi è un po' non è che mi odio però dico cazzo date una svegliata perché a volte mi appoggio sulla mia zona di comfort ok e mi nervosisco tantissimo capito perché dico cioè cavolo io sto facendo io sto lavorando al top fra ora so che posso farlo di più lo so benissimo che posso farlo di più però a volte non riesci ti capita di accontentarti in maniera esatto nemmeno a crocifiggersi però la vita fa così non è mai una linea retta verso la felicità e a proposito di fuori classe hai scelto michael jackson qui parliamo del forse innovatore per eccellenza cioè lui porta grandissime innovazioni nel mondo della musica ti faccio una domanda semi impossibile che non è dire il suo nome al contrario perché però se prima ci siamo andati a prendere un caffè io ne ho specifico ho preso una spremuta e tu un caffè immagina che al posto mio ci fosse michael jackson però gli puoi fare una sola domanda quindi se hai a un bar con michael jackson gli puoi fare una domanda allora tanta gente gli farebbe quella sì se già federico già sa così ovviamente però da fan una non da fan cioè allora sei alieno o no? ok cioè sei umano? questo gli chiederei esisti davvero perché per certi punti di vista per come ha rivoluzionato tutto lui per come faceva le cose dici cioè un po' metti il dubbio dici ma forse forse la domanda impossibile è questa però la parte quella mia la capito eh dai ma fate il gossip che tutti vogliono sapere tu credi che lui sia ancora vivo e sia su un'isola insieme a Elvis Presley ma io sono uno che sui complotti e cose varie sei complottista? no però mi diverto tantissimo ti dico già per dire a scuola per il periodo 2012 ho terrorizzato tutti sulla roba di maia finisce il mondo però mi faceva ridere tutti pensavano che io ci credessi davvero perché ti faceva ancora più ridere sì perché io mi piace vedere la reazione della gente capito questa roba di Marco Jackson oppure altre mille io sto lì capito l'undici settembre ho fatto gli alieni i piramidi hanno fatto gli alieni metto lì capito ha incastrato la gente lo penso non metto in mazzo lo penso che ci creda veramente e quindi proprio mi fa ridere questa cosa io mi immagino James Da Cruz che da Passo Scuro viene a Roma per una delle sue solite notate al Toy Room in cui è resident DJ e che cosa starà pensando a queste stronzate questo è fantastico e non so se sei d'accordo ma secondo me una delle domande più insopportabili che fanno ai DJ è ma quanta gente porti ah no io non sono DJ pulmino fratello non sono DJ pulmino io faccio il DJ mi piace capito adesso non vorrei potresti chiamarti DJ pulmino no non è mia la citazione no di un tuo amico di un collega si no neanche di un di una persona che con cui ho lavorato ho fatto cose belle io ho fatto l'ultimo anno dei pomeridiani a Roma a Roma 26 all'Euro all'Euro e c'era questo organizzatore un organizzatore storico che mi faceva tipo perché tipo dei PR no però lui non mi porta gente ok ma questo non è un DJ pulmino questo fa DJ e lì DJ pulmino mi sono morto ma perché me lo immagino ma si cioè non è che ha detto DJ van della Volkswagen anni 70 poi ovviamente c'è un DJ che tira è un altro discorso però non è perché ci sono colleghi ok sabbia sì no no sì 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 giusto ci sono colleghi però bisogna sempre vedere un po' i livelli delle situazioni che magari i personaggi in un determinato posto fanno ah oh ciò capito si portano a colla ci stanno ah beh poi non è nemmeno troppo non è nemmeno troppo a me succede se presento un format a un locale dicono ah beh no bella cosa c'è anche chi dice che stai a dire però c'è anche quelli che dicono ma che bella cosa e fanno ma secondo te come potrebbe convertire nel senso a livello di presenza e questa è una cosa un po' frustrante però quindi non è questa la domanda peggiore che potrebbero farti allora conoscendo il fortuna mi stai chiedendo qual è quella che mi dà più fastidio allora quando ho iniziato comunque abitando in un paesino piccolo e ti vedo non lo so in televisione davanti a 5 mila 10 mila persone in giro oh quanto guadagno quella mi dava fastidio poi grazie a Dio è scemata questa roba qui però una che mi dà proprio fastidio che sempre 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 oh ma stai sempre in giro non ti fermi un attimo io ti dico oh ma scusa te che lavoro fai io ti dico ma stai sempre in ufficio oh ma stai sempre al ristorante stai sempre al bar stai sempre in ufficio ma stai sempre là dentro ma ti svegli o no capisci che lavoro faccio cioè che domanda è bellissimo e invece devi oh ti vedo sempre in giro sono contento mi dici oh te fermi un attimo sono sempre in giro quindi anche in maniera seccata te lo dicono oh ma stai invidiato forse sì forse ho capito forse perché chi è attirato da non lo so la cosa mia io non conosco invidia non so cosa significa invidia è sempre stata una persona appagata del tuo se una persona ha qualcosa uno non conosce il suo background non sai che mazzo si è fatto per averla non sai nulla se ce l'ha solo merita a me che me toglie se una persona mi è stretta sono contento cioè io ho amici che giocano in serie A uno quando ci andiamo in classe insieme l'altro l'ho conosciuto giocando a pallone e ti dico oh cazzo frate cioè te ci sei arrivato sono contento sono contento era il mio sogno se sei arrivato te io sono contento sei un tifoso in generale ma sì assolutamente e invece molti poi sai che cosa non so se è capitato di notare se ti è capitato di notarlo molto spesso se le persone vedono che tu ottieni determinati risultati anche se non è nello stesso proprio settore specifico supponi io e te no io diciamo lato presentazione radiofonico tu lato DJ cioè se io vedo ah vabbè ma guarda James sta a San Siro al posto di dire no sta a San Siro e da c'è quella cosa vabbè però conoscevi da piccolo però lo sai come facevi capita te pure questo vabbè comunque fa parte dell'italianità questo nel senso io mi ricordo sin da quando sono piccolo ah ma quello sta in televisione perché è pure le battute tristi che facciano le donne esatto non voglio avventrarmi in circostanze per farti rendere esatto per farti rendere l'idea di questa è un po' purtroppo fa parte dei nuovi italiani questa roba cioè nel senso se tu si vuoi guadagnare una cosa è perché te l'hanno regalata o no perché te la sei sudata certo e quindi lasci scorrere ma sì io so uno che allora tu mi hai dato quelle dieci cose no io non ho scelto mai il libro o la cosa perché io non mi fossilizzo sulla cosa insieme a sui periodi e io ho finita la scuola cioè nel senso i superiori che non ho fatto l'università non ho fatto ogni saluto subito da lavorare andavo a lavorare con papà e poi è arrivato il e poi che è successo oddio scusa me lo so perso facendo come faccio a lavorare in questa maniera come si fa ah però si se no spieghiamo perché ci sta solo ascoltando è arrivato il nostro amico fuori dalla vetrina e quindi quel periodo lì credi che stavo a parlare perdone no che vai più hai scelto più personaggi che vanno a periodi piuttosto che il libro o un film si no per dirti cosa che mi hai chiesto no sei partito lo teniamo tutto stavi dicendo che appunto nella lista di 10 cose che io ti ho dato ne hai scelte 5 perché ti ricordavano dei periodi c'era un motivo perché è finita a scuola hai iniziato subito a lavorare hai lavorato con tuo padre lo sono dimenticato allora chissà se questa foto a proposito di periodi sei questo è un periodo è una generazione anzi più di una generazione sono 25 anni le cose belle esatto di cose belle tra le cose brutte perché l'unica cosa bella è tutto quello brutto esatto stiamo parlando di Francesco Totti che è tu sei la quinta persona che sceglie Totti l'hanno scelta persone completamente diverse tra loro tra l'altro nel corso di queste interviste perché lui è iconico a prescindere da da chi ami il calcio o meno cioè lui è iconico cioè iconico il calcio dell'italiano più forte di sempre punto senza sì senza punto senza sena ma dovremmo anche smetterla di ragionarne forse dovremmo mettere una legge di cosa parliamo e io sono uno che riesce a distinguere le cose non è che ti parlo perché sono urbanista ma te no Totti e poi tutti l'artri sì anche vicini perché non troppo lontani e su cioè nel momento in cui lui ha smesso insomma secondo me io ero lo stadio ultima volta io pure ovviamente ci penso ancora bianco molte di quelle lacrime secondo me derivavano anche dall'essersi resi conto che veramente finiva una cosa e infatti in quel momento prima citavi il fatto che vuoi concentrarti su quel momento e dire focalizzatelo nella testa perché poi non torna io comunque quell'addio sofferto me lo ricordo paradossalmente come una sofferenza ma non tanto aspetta attenzione faccio una piccola corrisposta non tanto perché non torna perché quello è comunque diverso da tutto quanto sì sì ti deve rimanere capito com'è per farlo fossilizzare esatto io me lo ricordo comunque come un momento così comunque è bello anche se poi dal giorno dopo non avrebbe più giocato e quindi tolto ciò su di più potrei farti 9 milioni di domande una delle cose più note scusa sono usciti anche un sacco di meme molto divertenti è il gran rifiuto ossia Totti che non va a Real Madrid noi tutti felici non sapremo mai se chissà se in realtà quel pallone d'oro l'avrebbe vinto o meno non lo sapremo mai qual è stato il tuo grande no per ora c'è stato un momento in cui hai detto un no un po' alla Real Madrid cioè metaforizziamo quel momento per riportarlo sì parecchi no li ho detti uno che mi viene in mente diciamo che può risuonare un po' di più e ho detto no alla trasmissione su Italia 1 e non te ne sei perdito in un periodo no zero ok nel senso chiunque al mio posto ci sarebbe andato certo in quel mio momento specifico specifico io ho detto no no non ci vengo ma perché non ti piace il programma senza fare i nomi no no non ti piace la cosa ti avrebbero voluto far fare non lo so la vocetta non ci andà ok non lo fa non ti serve cioè capito poi ho avuto amici che ci sono andati che è stato tipo hanno fatto tipo tre stagioni due su un emittente poi l'ultima su un'altra qualcuno che e altri perché ovviamente sono molto validi certo molto validi sono riusciti comunque a ritornare sì ma perché erano loro che e non il programma che hai capito sì 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 certo loro valevano a prescindere esatto e questo valere a prescindere sicuramente lo hai ritrovato anche nel lavorare con degli amici e tu lavori spesso con degli amici proprio cioè tu e Tony per esempio siete proprio amici da quando eravate piccoli sì noi ci siamo conosciuti eravamo piccoli in dei set cinematografiche perché facevo i film da piccolo ho fatto a DiCaprio ho fatto a DiCaprio sulla vita ho fatto otto film e in due di questi ho fatto insieme eh questa cosa e quindi sì ci siamo conosciuti poi ci siamo un po' persi e poi vi siete ritrovati e poi ci siamo ritrovati la musica il fatto che tu e Tony siate amici cioè questo fatto di questa amicizia si sa che affetti e affari non dovrebbero stare assieme teoricamente e quello voglio chiederti cioè l'essere amico di Tony ha cambiato la percezione del vostro lavoro reciproco cioè sia tu verso di lui no io ho iniziato lavorando proprio con la DPG portandoli live facendo il DJ set mettendo i dischi ogni 80 ma io sono sincero io premo bottoni al suo volumi certo chiaro c'è una cosa che metti hai capito certo DJ Bulmino e quindi poi adesso sto seguendo più Tony negli ultimi anni però no cioè nel senso io prima che loro esplodessero ero proprio fan eh sì cioè capito proprio fan quindi allora hanno segnato bel solco sì musicalmente esatto quando sono esplosi cioè quelle poche volte che riuscivo che magari suonavano in zona che io non avevo date li andavo a sentire mi ricordo tipo il concerto stava villata non lo so e ci sono andato e tutto quanto quindi comunque ho mantenuto i rapporti poi non c'è stata questa occasione loro hanno voluto chiamare te apposta e quindi non ha inficiato nel vostro rapporto che delle volte purtroppo succede senza rimembrare racconti che ci siamo fatti prima però può succedere beh lì a me per esempio è successo sì anche a me è successo l'ho trovato molto triste ma come magari che 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 lavoro è lavoro esatto amicizia amicizia ovviamente cioè se magari stiamo a suonare e faccio una cappellata e togli mi c'è cosa cazzo stai c'è ragione c'è che per dire però come sai poi il nostro lavoro è che viaggi tanto stai tanto insieme comunque non si perché la gente mai rivede la storia dei 15 secondi oh quello sta là come c'è arrivato là è stato ci devi arrivare da 11 ore prima stavo da un'altra parte noi facciamo certe cose pazze cioè pazze facciamo certe cose più umani non in quel senso no a livello di viaggio a livello di cose comunque se non c'è un bel legame è un bel legame comunque cioè se non ti sopporti è ancora più pesante capito come a prescindere da lui se c'è un team comunque noi siamo un bel team cioè andiamo in giro siamo azzamodalizzate cioè capito funziona tutto sì aiuta aiuta perché è molto stressante cioè molto stressante davvero la gente non lo sa non lo vede però prendi il treno prendi il punto ci muoviamo con qualsiasi cosa è capace che spesso andate anche vicine ti dico che Pasqua questa è quella più folle in assoluto Pasqua non mi ricordo che è tipo due anni fa venerdì Genova sabato Sicilia domenica che era Pasqua Alghero Sardegna lunedì è Pasqua e Tampuia mago tre delle 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 scomodi sì poi Follia ringraziamo gli aeroporti d'Italia Sicilia Sicilia Sardegna sono dovuto passare per Roma ma come perché Sardegna Puglia sono dovuto passare per Milano ah vabbè capito cose semplici che ci piace però capito è stressante tu magari dopo dieci giorni arrivi a non sopportarti però se non c'è quella cosa quindi vi prendete poi delle pause tutti voi del team sì sì ma ce le prendiamo comunque fortuna che il lavoro nostro ci piace certo chiaro capito ma infatti c'è una cosa che ovviamente destò estremo scandalo la vicenda di Avici o Avisi non so cioè per esempio lui per chi non conoscesse la storia Avici penso che l'avete sentito tutti me la ricordo perché lui lui è arrivato a togliersi la vita sì per questo stress e molti dicevano ok capito Faniardi eh però tant'è che lì Skrillex Hardwell è preso tutti una pausa perché si sono preoccupati perché sì uno che viaggia tantissimo che passa più ore sul jet che in giro è Steve Aoki per dire eh sì però mi pensavo la roba della Vici l'ho vissuta malissimo che era uscito il docufilm su Netflix e io mi sa che l'avevo visto in ritardo non mi ricordo comunque l'ho visto ho detto ah massa meno male mo sta bene fratea quattro giorni dopo le notizie io così sono rimasto ma ho visto ma adesso però non mi ricordavo il periodo magari era uscito qualche mese non lo so non lo so però a proposito di momenti esatto ci sono rimasto male perché ovviamente non è mai bello anche primo perché ero l'artista di quelli clamorosi stava regalando una pagina di storia per la musica elettronica fantastica poi perché era in pischiello adesso non mi ricordo quanti anni avesse quando è successo no ma comunque super super giovanissimo secondo te quali sono delle problematiche serie nel lavoro che fai cioè perché comunque sai la notte gli orari gli orari sballati no perché ci sono circostanze a me pure accade devo presentare un evento finisco alle 3 che devo fare il giorno dopo non mi posso svegliare da un lato ti dico beato te ma è già tu alle 3 inizi no però nel senso no boh al di là di questo quali possono essere un paio di problemi magari più più pesanti che 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 problemi pesanti è che la notte inevitabilmente è un'altra vita bene rispetto al giorno altre persone altre persone o le stesse persone che si levano la maschera esatto e comunque la notte vuoi non vuoi ti porta a togliere di per sé i fenomeni inibitori poi mettici magari l'alcol la spensieratezza del momento mettici che ne so ognuno poi chiaro capito ognuno fa quello che sente di fare figurati non so uno che può succedere tutto però noi che ci viviamo da anni noi è bello bello vabbè è il tuo e poi succede il tuo pure del giorno ma sì però la notte non lo so che è notte è tutto buio situazioni te le vivi in maniera diversa ti spaventa un po' intanto no l'avevi smesso sette anni fa l'uomo della notte che non smette ma c'è un uomo che insomma diciamo che con la notte ha fatto il suo in un modo o in un altro come quadro opera mi è piaciuto perché mi ha scritto qualsiasi quadro di Andrea stiamo parlando di Gemello che salutiamo io l'ho preso questo ma ce ne sono tantissimi io l'ho scelto perché beh tornando a quello che ti dicevo prima ho iniziato io iniziato ad ascoltare rap hip hop così per colpa sua tra virgolette italiano sì quello che mi sono avvicinato più italiano sì perché comunque sai con tutto il movimento loro arrivava certo arrivava e quindi a lui mi ci sono legato particolarmente perché ha questa penna che poi è molto simile ai suoi quadri secondo me c'è il modo la sua scrittura musicale sì perché poi tante frasi l'ho capite molto dieci anni dopo chiaro chiaro no quattordici anni sedici infatti c'è anche c'è anche un fatto anagrafico noi siamo coetane lui è un po' più grande sì alcune cose ti arrivano come le scrive come le descrive poi io mi hanno regalato il compleanno un suo quadro a casa veramente e io fino a poco tempo fa prima che gli facessi lo studio in casa ce l'avevo davanti quindi fa conto immagini e descrivania monitor classe monitor monitor e sopra c'avevo il quadro suo che qual'è ma in realtà non è un pezzo unico che tra l'altro c'aveva lo scudetto d'aroma sulla destra così ridi così e e intanto mi incassavo lì oh ma quella cosa ieri non c'era c'hai capito come a questo questa che poi io sono ignorante in materia non so in materia di arte diciamo visiva esatto e mi guardavo quella faccia non c'era ah ma quello è un monumento hai capito come alcune cose le scopri ogni periodo è un po' questo che ti dà anche ispirazione dei quadri di gemello sì è una roba che ti dico boh perché è una continua scoperta intangibile brevissimo brevissimo già sto guardando questo che ho scelto che insomma per chi ci sta ascoltando su youtube potrete vedere il quadro di cui sto parlando effettivamente scopri delle parti degli elementi che prima sembravano non esserci se te lo portavo una foto del mio ti facevo capire perché comunque ci sono tre figure ben definite qua certo mentre quello che ho io c'è qualcosa molto più un po' più astratto io dico la tua testa no come fa un partorilla una roba del genere e quindi so affascinato capito dico oh ma come hai fatto capito e ti è mai capitato di parlargli chiedergli la fortuna mia è stata questa che poi comunque stimandolo come artista e quant'altro poi è un amichetto esatto esatto per quello ti dico ti è mai capitato di dirgli oh andrea ma scusami no magari no però sa quanto lo stimo due anni fa due stadi fa io ho organizzato una serata in questo posto a fiumicino bellissimo su una terrazza che dà proprio sul porto tutto il mare lui è venuto lì ha cantato e non a caso non glielo ho mai detto che quella traccia era la mia traccia preferita io stavo tipo dietro dietro console tranquillo fa i miei video ok lui al buffo ha preso James questa è venuta mi ha preso e che canzone è? senti come lo sto raccontando perché sono fan vero suo nonostante un amico è venuta mi ha preso mi ha abbracciato e che canzone è? se mi pensi adesso ah però capito? mi sono fatto i pianti Elisa quando ero piccolo qualsiasi cosa però poi la fine vogliamo si chiaro infatti il bello di fare questo lavoro è che delle persone che incontri scopri tante cose e io voglio scoprirne una interessante come capo generica è un accaso eccoci qua felpa scuba sì sì questi sono dei grandi classici per me la felpa è un po' un sintomo di prima l'hai citata zona di comfort cioè di io sto in felpa quando sto rilassato poi vabbè la felpa nel tempo senza fare la storia della moda che non ce ne frega niente però è diventata anche oggetto di stile particolare però nasce come abbigliamento comodo quindi io mi chiedo la quando è quindi su questa metafora quando è e qual è il luogo in cui ti senti di poter stare in felpa e quindi come se fossi a casa tua ma in realtà ovunque sei sempre in felpa ma non è sempre in felpa per aver detto l'altro giorno sono andato in un posto no 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 ma ti ripeto più figurativamente che altro più a metà in realtà un luogo che è zona di comfort una situazione che è zona di comfort la mia situazione che è zona di comfort è il toy room cioè che quella è un'estensione di casa mia saranno contenti loro a dirti come inquilino direi no e quindi sì per me sono sei anni che stai lì lì ho iniziato novembre 2018 quando si è spostato è vero perché non è sempre stato vicino a piazza a barberini è stata via veneto e poi si è spostato giù via degli avignonesi 73 e sì quindi quando hanno ristrutturato tutto quanto hanno cambiato tutto quanto quella è stata una fatica nel senso dal punto di vista lavorativo perché io suonavo tutt'altro genere tutt'altro genere mi è stato detto oh c'è sta occasione qui che fai ok arrivo a casa mi sei davanti al computer c'è Windows c'è lì a seleziona tutto cancella sì uff quanto ci hai messo a fare la fortuna è stata che io suonando in sala suonare facevo house tech house poi quando arrivavo il filotto delle dm andavo edm però per piacere ascoltavo tutta roba hip hop tutta roba capito come un altro sì perché sì per gusto tuo personale esatto quindi poi ho stato sempre ascoltato tantissima musica come ti ripeto con i madri dentro casa sono piaciuto con la musica H24 cioè le pulivano un giro patato cioè fotografie cose andavo in giro per l'Italia con lei quando ero piccolo quindi è sempre piaciuto ascoltare la musica a 360 gradi però è stata un po' una sfida che il Toilum ti ha lanciato sì verso me stesso è stato molto bello perché dico oh ora ti devi fare una svegliata inizia a suonare un altro genere comunque è la console di Roma sì sì ma anche come si dice quindi lì un po' lì per lì l'ho l'hai un po' accusata sempre verso me stesso sì sì no chiaro e dico comunque è una roba importante è una roba importante e va va fatta bene e ora sei resident sono resident sì il primo anno il primo anno ci sono stati cioè in senso ho iniziato facendo venerdì sabbolo e domenica mamma mia e una volta a settimana veniva sempre un DJ diverso e invece uno che rimaneva e quello è stato è andata così è andata così è andata così tutta la humiltà che ci riconosceva no no sto scherzando però è andata così cioè diventare resident del Toilum che è uno dei locali del mondo della notte principali non solo in Italia non solo in Italia appunto abbiamo fatto la collaborazione adesso a Dubai sono andato due volte a Dubai a suonare adesso aprile vado in Spagna poi amico non so ancora ci sono riusciti ad andare perché l'estate sono sempre molto impegnato però nel senso è un brand esatto un brand molto forte a livello proprio globale la faccia è la tua quella incredibile ecco i belli freschi allora purtroppo siamo arrivati alla fine ma già mazza ho messo più di macchina arrivata che di chiacchierata è vero però voglio chiudere con un gioco molto interessante questo gioco che ho pensato per te ti dirò due dj famosi allora che non me ne vogliano i dj professionisti lo dico subito non sono un grande esperto quindi ho cercato dei nomi altisonanti in modo tale che anche noi che ci capiamo un po' di meno possiamo orientarci ti metto in difficoltà però perché io te ne dico due dopodiché tu ne devi scegliere uno ok che verrà sostituito da un successivo e che quindi entrerà in combutta ah ok quindi non è che devo scegliere poi chi va in finale quindi è uno e quello che rimane esatto tipo chi vince e regna diciamo così quindi qual è il dj che vincerà e regnerà per james da cruz tra david ghetta e calvin harris allora c'è da capire tanto a livello musicale musicale o in generale secondo me proprio a gusto tuo dai allora per quanto magari per un certo punto di vista potrei preferire calvin però david ghetta ha segnato la stoccia david ghetta è stato un po' un crack si è quello che ha sfondato cioè nel senso lui ha poi dato la risonanza vera david ghetta mi stream sempre guardiamo david ghetta calvin harris david ghetta david ghetta dead mouse ghetta david ghetta nervo che nervo ghetta david ghetta carcox però lì c'è capito carcox è un po' più david ghetta carcox è sempre che ti posso posso dire magari preferisco carcox perché capito un po' più allora magari i colleghi adesso mi ricordo dove sai scegliere david ghetta quel salame però david ghetta l'ho fatta io la premessa eh bro quello che io vuoi dire quello è david ghetta cristiano ronaldo ma vedi tipo messi però quello è cristiano ronaldo c'è capito è questa la difficoltà che c'ho nel rispondere però devi scegliere david ghetta carcox david ghetta david ghetta david ghetta mi fa mille esempi è perché l'ho scelto per primo perché sapevo che era che era difficile poi da buttare giù la faccio io david ghetta skrillex skrillex ah ecco ce l'hai annaggia david ghetta skrillex ok vabbè l'inverto skrillex amelie lance skrillex skrillex peggy goo skrillex skrillex timmy trumpet skrillex skrillex don diablo skrillex lo sai che ho fatto chiusura a don diablo all'atlantico eh vabbè quindi vi siete anche conosciuti e ho preso più complimenti io di don diablo eh che salutiamo grande don diablo oh pardon sei il peggio skrillex stivoghi skrillex 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 dipolo quindi le scelte le scelte che ho fatto sono state le mie l'avevo detto ho cercato dei nomi che si potessero conoscere Jay grazie per essere tornato qui grazie perché insomma è stato bellissimo anche ripercorrere dei momenti assieme e uscirà questo remix hai detto sì adesso anzi forse quando è uscita è già uscita quando esce questa puntata è già uscita ho un remix di non è un pezzo famosissimo però è brasiliano quindi ho voluto farla è un pezzo di cuore per te e quindi è giusto che sia tale grazie ancora grazie a te ci vediamo presto però devi tornare più spesso facciamo una volta a settimana così ti metto dei DJ migliori dai grazie mille a James La Cruz grazie ovviamente a tutti voi che avete guardato e continuato a guardare di lo zianna grazie a Eliseo Le Macchine a Federico ai suoni ci vediamo alla prossima ciao ciao